La seduta dell'8 gennaio Il Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura la modifica dello statuto per introdurre il Collegio dei Revisori dei Conti per migliorare il controllo contabile della Regione. Nel pomeriggio ha svolto un ampio dibattito sulla riscossione del bollo auto, approvando due ordini del giorno che chiedono che la gestione del bollo auto torni direttamente in capo alla Regione. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame del disegno di legge di riforma urbanistica. Ricordata Rita Levi Montalcini La scienziata turinese Rita Levi Montalcini, senatrice a vita e premio Nobel per la medicina nel 1986, è stata commemorata in Consiglio regionale in apertura di seduta l'8 gennaio, alla presenza della nipote Piera Levi Montalcini. Il presidente Valerio Cattaneo ha ricordato l'illustre turinese nata il 22 aprile del 1909 e scomparsa a Roma il 30 dicembre scorso e l'Assemblea ha poi osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Diventiamo cittadini europei C'è tempo fino al 18 gennaio per presentare i lavori per il concorso organizzato dalla consulta europea regionale Diventiamo cittadini europei, dedicato alle scuole superiori. I temi di quest'anno sono legati alla solidarietà tra gli Stati europei e alla possibilità in futuro della creazione di un'unica federazione. Nel 2013, dichiarato ufficialmente Anno europeo dei cittadini, la consulta prosegue quindi l'opera di sensibilizzazione verso le giovani generazioni. Il partigiano di Piero Martina È stata presentata al pubblico e alla stampa l'opera Il partigiano di Piero Martina. Il quadro, olio su tela, 180x80 cm, datato 1961, è stato donato dalla famiglia al Consiglio regionale ed è esposto nell'atrio di Palazzo Lascaris. All'incontro erano presenti anche le due figlie dell'autore, Anna e Antonella. Una rassegna dedicata all'artista, nato a Torino il 30 dicembre 1912, è visitabile all'archivio di Stato fino a fine gennaio. I diritti di tutti È ripresa la 26esima edizione della rassegna cinematografica I diritti di tutti, rivolta alle scuole superiori di 25 realtà piemontesi. La manifestazione, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con Ajace Torino, quest'anno è dedicata a Un mondo senza confini, storie di vita tra esclusione e inclusione e propone tre film, Miracolo alle Havre di Aki Kaurishmaki, quasi amici di Oliver Nakace e Eric Toledano e Terraferma di Emanuele Crialese.